Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video Come sapete sono qua in Sardegna, vi sto filmando anche diversi vlog Ma oggi voglio firmare per voi un try on haul Quindi proverò con voi un sacco di vestiti Perché direttamente qui in resort mi è arrivato questo pacchetto Anzi un mega pacco da Lumina Che è un brand di abbigliamento che ha dei capi veramente splendidi Soprattutto io mi sono innamorata degli abiti Come sapete in estate adoro indossare abiti freschi, lunghi Praticamente in estate indosso solo abiti lunghi E su Lumina ce ne sono un sacco che mi hanno fatto impazzire Infatti non appena mi è arrivato non ho potuto resistere Ho già spacchettato e sto già indossando il primo abito Che adesso vi farò vedere bene per intero E spacchettiamo tutto assieme e vi faccio vedere ogni abito uno per uno Ho preso sia delle cosine un po' più da giorno Quindi più portabili E poi altre un pochino più eleganti da sera Perché appunto ci sono abiti che sono più adatti al giorno Un pochino più sportivi E poi altri abiti che invece amo indossare da sera Che sono super super eleganti Questo è il primo abito che appunto non vedevo l'ora di indossare Perché è molto estivo Ma comunque per me è anche in palette tra l'altro È disponibile in diverse colorazioni Io naturalmente ho scelto quella blu È fatto di un tessuto molto leggero e molto fresco E soprattutto adoro il fatto che sia Che abbia questo laccetto in vita In modo appunto che si possa regolare Specialmente se avete un fisico a pera Un fisico a rettangolo Il fatto di avere un laccetto in vita È fantastico perché crea una figura un po' più a clessidra E io adoro gli abiti che hanno questa forma Cioè che sono stretti in vita con questa scollatura Hanno appunto questa forma E poi si stringono in vita E poi si allargano nuovamente Sulla parte della gomma Cerco di farvelo vedere bene per intero Eccolo qui appunto Molto estivo, molto fresco Mi ricordo un po' la Sicilia Con questa fantasia con i limoni E adoro Il fatto appunto che abbia Questa gonna così comoda Secondo me è decisamente più un abito da giorno Questo appunto Molto molto carino Molto molto comodo È regolabile Questa è la cosa importante Ok secondo abito Questo secondo me può essere adatto Sia per il giorno Magari con una giacchettina jeans Un po' con un look più casual Una borsa un po' più grande Oppure da serata Con una borsettina Un pochino più piccolina C'è questo scollo Laterale Che mi piace un sacco Non so se riuscite a vederlo Ma c'è uno spacco laterale Nella gomma Non altissimo però Quindi assolutamente Non mi fa sentire a disagio E sì Lo trovo anche questo Veramente Meraviglioso Ok pensavo Quello verde Fosse il mio preferito Tra tutti Ma adesso che ho provato Questo rosa Onestamente Forse questo è il mio preferito Perché è un rosa fucsia Veramente bellissimo Ed ha questo Scollo Che Secondo me è quello che mi sta meglio Con Il Con l'elastico In vita Che cosa Ne dite Si vede anche il mio tattoo Io adoro questo Tipo di abito Aperto qui Perché appunto Posso sfuggere il mio tattoo E anche questo Ha una gonna Lunga Con lo spacco Che arriva Più o meno A Metà coscia Diciamo Ed è Secondo me Splendido Poi abbiamo Quest'altro abito Questo è un pochino più corto Arriva A metà polpaccio Anche questo Super fresco Forse questo è quello più fresco Tra tutti Veramente Estivo Super Super Comodo E la gonna In cotone Appunto Ti lascia fresca Ho messo questo Giacchino In jeans Perché Questi abiti bianchi Io adoro Indossarli appunto Con le giacche jeans Questa è Parecchio corta Arriva in vita Ma anche quella Un pochino più lunga Però secondo me Questa che appunto Si ferma proprio qui Sul punto vita Che è segnato anche dall'abito È molto molto carino La parte sopra Non abbiate paura Che sia troppo stretta Perché è Super super Elasticizzata E quindi Si adatta Benissimo Anche qui mi piace un sacco Che sia Segnato Il punto vita Quindi appunto Se avete un fisico A pera A rettangolo Questo vi aiuta Un sacco A appunto Rendere la figura Più a clessidra Molto Molto bello Decisamente Un abito Da giorno Anche per Andare al mare Insomma Molto Portabile Super Super Carino Così lo vedete Anche senza Giacchina Davvero Molto bello Nella sua Semplicità Super Comodo Ok è veramente Difficile Scegliere il mio Preferito Pensavo fosse Quello verde Dopo pensavo fosse Quello rosa E alla fine Invece penso Che questo Sia decisamente Il mio preferito Tra tutti Ragazzi Guardate che Meraviglia Il tessuto È stupendo Veramente Molto elegante Questo è decisamente Un abito Da sera Secondo me Anche qui La gonna È molto Lunga Questi sono Gli abiti Che preferisco Assolutamente Qui sono Tutti In molto Stile Nicole E Qui è anche Regolabile Tra l'altro C'è chi preferisce Avere uno scollo Un pochino Più Ampio Io preferisco Sempre stringerli Così Al massimo Questi abiti Ma guardate Il colore Quanto è bello Questo blu Elettrico Satinato Appunto Super Super Elegante Per una serata Ragazzi Lo adoro E questo Penso che sarà L'abito Che indosserò Al matrimonio Di una mia amica Tra ormai Tipo Due settimane Perché è veramente Troppo 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 Bello Poi il blu Porta fortuna Alla sposa Se è indossato In matrimonio Non so se lo sapevate Ma È appunto Tradizione E io Lo adoro Troppo Mi allontano Così lo vedete bene È Meraviglioso Cioè Stupendo Troppo 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 Bello Ragazzi Ok Mia family Questo è quanto Per il video Di oggi Fatemi sapere Tra tutti quelli Che vi ho fatto vedere Qual è secondo voi Quello che mi sta meglio Sia per quanto riguarda La forma Che per il colore Ringrazio Ancora una volta Il team Lumina Per questa opportunità E per tutti Questi abiti Stupendi Appunto Vi lascerò Il link Diretto Al sito E a tutti Gli abiti Che avete appena Visto qua sotto Nel box Informazioni Aspetto i vostri commenti E io intanto Vi mando Un bacio enorme Siete pronti Per il nostro abbraccio finale Che non può mai mancare Venite qua Che vi abbraccio Forte 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 E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao